Sicuramente è un'esperienza molto interessante, abbastanza interiore come esperienza, comunque un percorso non solo didattico, anzi forse è un percorso molto più interiore e di concezione che non di didattica e di tecnica. Ovviamente c'è anche quella, però è un po' tutto l'insieme che forse si distingue dalle altre scuole. Per me l'apice che ci può essere nella professione di un cuoco è di arrivare ad esprimere veramente se stessi, quella è la cosa più importante comunque, ognuno ha il suo modo di interpretare, il suo modo di vedere, il suo modo di esprimere sensazioni ed esperienze nel nostro lavoro, nel nostro mestiere in un piatto. Quindi riuscire ad essere se stessi secondo me può essere il massimo, poiché sia una cucina fusion tradizionale, tutto da sensazione. Sarei curioso di rifarlo, ci ho pensato più volte che è una di quelle cose, non penso che mi accetterebbero la mia domanda magari l'anno prossimo, però proprio per vedere la differenza per una volta, sì, sarei curioso. Grazie a tutti.